Sai guidare quel camion? Sì! Tutti dietro la raffa! Pronti? Andiamo! Salite sul camion! Dobbiamo andare! Viva, viva, viva! Muoversi! Sai come si guida questo coso? Sì, sì, sì! Devo solo collegare i cavi giusti! L'ho già fatto un milione di volte, tranquilla! Usa le chiavi! Sì, con le chiavi è più facile! Sparci! Subito! Forza, sbrigati! E questo mi mancava, una tartaruga che mi dice come guidare! Muoviamoci! Sparca! Giacca l'uno tango a ore dodici! Mi sa avuto! Non dovevo dubitare di te! Dovevo stare dalla tua parte! È pazzesco che tu non sia pazza! Non lo trovi pazzesco? Obiettivo a ore dodici! Dove stiamo andando, ragazzi? Dalli, il modo più veloce per raggiungere Manhattan! Dobbiamo restare su questa strada e raggiungere il tombino in fondo alla collina! Il condotto fognario è a quattro chilometri da qui! Mickey! Avvisa i due in cabina! La faccia subito! Oh no! Vai, vai! Vai, torna indietro! Ci provo! Via! Vuoto! Non ti cuore! Non ti cuore! Via, via! Leo, muoviti! Dall'altra parte! Dall'altra parte! Di quanto abbiamo deviato? A dire la verità, questa è una scorciatoia, ma dobbiamo continuare ad andare giù, dritto giù! Continua ad andare giù, dritto giù! Ah! Guarda il ciclo statino! Fuoco! Ragazzi, Leo è nei guai! Sono un po' scheggiato! Rattoppami al meglio! Fammi fare quello fico per una volta! Tieni duro, Leo! Sto sganciando! Ho sempre voluto provarci! Ti ho preso, fratelli! Uno fuori uso, ne mancano due! Va bene, ora basta! Ora ci penso io! Sì, così va bene! Assicurati di riprendere tutto! Va bene, ora basta! Rappi da mano! Balanga! Forza, Leo, svegliati! Sì, svegliati! Ti prometto che farò tutto quello che dici! L'elicopero di Shredder è a 20 miglia fuori dallo spazio aereo di New York City! Grazie per gli aggiornamenti sul traffico! Dopo ci dai anche quelli su Sport e Meteo! Se questa notizia ti ha impastiguito, allora sappi che faremo un volo di 150 metri tra 53 secondi! Stai dicendo che c'è? Oh, che roba! No! Teriamo Ebril fuori da lì! Leo, salta su! Non dimenticare il vecchietto! Ciao! Cambia di programma! Oh, ma dai! Ragazzo, salta giù! Salta giù! 12 secondi al dirubo! Ehi, Danny! Facciamo quel gioco con il bastone! Dobbiamo far fuori Miss Simpatia! Lancia del peso! Aggrappati! Cosa? 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 Meghi! Aferra il cavo! L'ho preso! L'ho preso! Succelo, succelo! No, 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 no! No, 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 no! No! Ragazzi! Oh, no! Lei, lei, quell'altro tizio! Lei era così bella, così gioca! Non sono morti! Bene, allora! Hai un paracadute da qualche parte! Ehi, ragazzi! Ecco il tombino, si torna a casa! Un aiutino, chiedo troppo! Ragazzi, dobbiamo sbrigarci! Shredder è già a New York City! Sensei, mutageno in arrivo tra quattro minuti! Proseguiamo come da programma! Siate pregati di non sforgervi dal carapace! Il satellite mostra che Shredder ha raggiunto la cima delle Saks Tower! Se è da lì che rilascerà la tossina! La diffonderà su tutta la città! Dobbiamo! Dobbiamo! Bene, ascoltate! Dobbiamo trovare gli ascensori e salire sul tetto! Voi uscite di qui a distanza di sicurezza! No, no, no! Possiamo andare a cercare Saks e prendere il mutageno come piano d'emergenza! In caso servisse! Grazie mille per la fiducia! Se non dovessimo tornare, portate il mutageno a Splinter! Può salvargli la vita! Il laboratorio di Saks è al piano 36! Ho già disattivato il sistema di sicurezza! Oh! Ehm... Buona fortuna! Se non dovessi tornare, ricordati di me, April! Potrai sempre trovarmi... Qui dentro! Sei una ragazza complicata!